C'è un inclot! Lo vedo! No, non paratelo! Siete chi era? No, non paratelo! Siete chi era? Noi fate schifo! Era un... Caron dalla roccia! Sì, lo vedo per la gara! Lo vedo! Uno preso, uno preso! Uno preso, uno preso, uno preso! Uno morto! Avanziamo! 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 Uno sotto! Stiamo da sopra! Stanno ammazzando! Stiamo in 4! Uccidete quello sotto! Sei tu! I fuochi d'alti di giro! Qua, qua, qua! Se non sei tu, avanti in mezzo ci sbagliate! Ok, fatto! Attenti, non avanzate troppo! Ah no, ragazzi! Sta qua dietro queste rocce! Siete ammazzati? Ebbè, 4! Sono alla finestra! Sono alla finestra, ragazzi! Sono un casino sulle finestre! Eh, non resta fuori! Uno l'ho beccato! Ottimo! R-group! Dove sei? Dove sei? Alluttate quelli che abbiamo ammazzato! Sono tra le rocce io! Dove sono quelli che abbiamo ammazzato? Scusate! Quella roccia là sopra! Dobbiamo stare o un minti? Eh, dove siete? Dove siete, ragazzi? Ok! Là sopra! Quale roccia? Questa qua in alto, proprio! Attento! Ma cavolo! Qua, quale roccia? Beccato, uno! Preso! Morto! Dark, dai, ti seguo! Ho bisogno di un cicchino, ragazzi! Dai, prendetelo zaino sopra! Eh, io sono senza M4! Io non posso farlo! Dattemi di 2 mm, per favore! Occhio, raga! Ho conoscito! Non esponete! Occhio, te ne hai messo qualcuno? Non possiamo stare! Di cosa? 9 mm! No! Uno più, dopo! Siamo troppo attaccati! Oh, bella! Nessuna della legna! Per far barricade! No! No zaino qua! Io riesco a fare due barricade! Provo a salire sopra qua! Che ce l'abbiamo chiuso uno prima! No, ecco il DM4! Oh, vanno un sacco di porte! Ci possono anche girare! Attento! Mi è ammazzato, raga! Recuperatevi la roba! Dov'eri? Ero dietro il rocciano! Coprimi, Medusa! Coprimi, Medusa! No, si può prendere! No, no! Dimo, provarci tu! Non ci serve un barricade! 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 La faccio io! Cazzo, raga! Mi sto facendo delle barricade per andare avanti, eh! Cazzo, raga! Coprimi, Darka! Che sono dentro! Questo è un new camp! Che cazzo voleva con l'AP! No! Ricarica! Ricarica! Attento! Arrivano, arrivano! Il nudo! Merda, raga! Servono armate! Stiamo al primo! Un secondo! Ecco, fatta! Mettila davanti! Muoviti! C'è questo! Vedo uno che è morto! Un rig è passato, raga! Eh, sarò io o sarò? Sono io! Eh, stiamo mettendo il barricade davanti! Vai, vai, vai! Scusate la roba! Scusate la roba! Scusate la roba! Sto tornando, raga! Però io non sto bene la strada! Dobbiamo andare in via! Sto raccogliendo! Arrivo! Dove sei? Dietro di te! Oh, bro! Oh, bro! Oh! Non lo back! Non lo back! Non mi back! Non stai fermo! Salta! Salta! Via! O no? Le prese? Sono io! Era mia la roba! Hai preso tutto o no? Sì! Era un M5 con i colpi! Ma quanti siamo rimasti in due? Vaffanculo! Andiamo via via via! Aspetta! Il gruppo sulla strada, veloci! Roger! Sulla strada, Medusa, andiamo! Ok! Che sconto! Eh sì! Questo è stato figo! Ma chi è morto alla fine? Eh! Dove siete ragazzi? Hai luttato tutto Imogen! Chi è questo dietro? Chi è questo dietro? Eh... no! Come no? È pochissima roba! Ogro non rimaneva più nulla, ho controllato io! L'ho lasciato da Darkfold perché l'avevo visto che andrà, ma vedeva! Io ho preso la cosa più importante! Vedi poi di aver ridotto! Torniamo in base! Via di qua, via di qua! Ho finito tutte le colpi, cose! Avete recuperato? Abbiamo vinto qualcosa! Sì sì! Io ho recuperato un M4 e un po' di roba! È stato bello però! Ok! Allora!